A volte le idee migliori nascono in modo inaspettato. Così abbiamo aggiunto più semi di papavero, più chia e sesamo, più segale soffiata e 5 cereali. L'obiettivo della nuova campagna Galbusera era sicuramente la brand awareness, aumentare le vendite ma soprattutto aumentare la distintività. Negli ultimi anni nel comparto salutistico sono entrati molti brand, molte marche e quindi Galbusera aveva la necessità di riaffermare la propria leadership. Touchpoint principale è sicuramente la televisione ma anche il cinema e a breve partirà tutta la piattaforma digital. Il target è molto esteso, direi praticamente tutti, in quanto Galbusera fa prodotti buoni e che fanno bene. Ci piace perché per la produzione di questa campagna è avvenuta un'interessantissima triangolazione tra la Valtellina dove ha sede Galbusera, Los Angeles dove invece ha sede lo studio di Gabe Hordos, il regista che ci ha seguito nella produzione di questi film, ex capo animazione di Dreamworks, e Stoccolma dove invece ha sede lo studio, la casa di post-produzione Milford, specializzata e espertissima a livello mondiale di CGI e animazioni. Tutto ciò grazie al supporto anche di Movie Magic quindi era una quadriangolazione in realtà.